Musica Benvenuti ad Avvocati News. In questa puntata con l'Avvocato Nepi parliamo dei diritti che la legge riconosce al coniuge in caso di morte dell'altro senza testamento. Al coniuge, anche qualora concorra con altri chiamati, sono riservati diritti di abitazione sulla casa di vita e residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano, laddove di proprietà del defunto e comuni. La legge quindi tutela il coniuge superstile mediante un'attribuzione specifica e particolare di un duplice diritto reale, avente come contenuto tipico sia il diritto di abitazione sulla casa coniugale, sia il diritto di uso dei mobili esistenti. E ciò tutela di un diritto non tanto patrimoniale alla conservazione dell'alloggio, quanto morale alla conservazione dell'habitat domestico. Per quanto riguarda la posizione del coniuge separato, senza debito, la Cassazione ha stabilito che per il sorgere di tale diritto è necessario che entrambi i coniugi abbiano convissuto nella residenza coniugale fino al momento dell'apertura della successione. La norma è dettata in materia di successione necessaria. Il primo problema è capire se possa invece essere applicata anche in materia di successione legittima. La giurisprudenza, con una recente sentenza della Cassazione a sezioni unite del luglio 2013, ha stabilito che tale norma si applica anche in materia di successione legittima e ciò per una serie di considerazioni. In particolare, la considerazione che la successione necessaria non è da considerare un terzium genus a fianco alla successione testamentaria, a quella legittima, ma è una species di quella legittima all'interno della quale andrebbe quindi ricondotta. Un ulteriore problema riguarda l'applicabilità e l'operatività di tale norma in relazione alla quota che il coniuge vanta al momento dell'apertura della successione, nel caso di concorso con i figli, articolo 581, o nel caso di concorso di ascendenti legittimi, fratelli o sorelle, articolo 582 del codice civile. Una prima tesi ritiene che tali diritti vadano a comporre qualitativamente la quota riconosciuta al coniuge dalla legge, mentre secondo un'altra tesi ritiene che tali diritti spettino come un quid pluris, cioè come un'aggiunta rispetto alla quota spettante per legge. A livello operativo, concludo, il valore capitale di tali diritti dovrà essere stralciato dall'asse ereditario e la divisione quindi operare sul solo valore della nuda proprietà.